Ecco qua il cartellino di dimissioni già firmato. Oh, finalmente, grazie dottoressa, voi siete state un'equipe proprio che mi sono trovato benissimo. Dovere vostro, ci mancherebbe. E allora mi dica, che cosa farà di bello adesso che è stato dimesso? Che cosa farò di bello? Io ho un sogno, dottoressa, io vorrei fare il giro del mondo, sì, assai. E quando intenderebbe partire? Ma veramente il momento di organizzarmi ne decidi i giorni e parto. Lei vorrebbe fare il giro del mondo? Sì. Le conviene partire entro domani. E perché? A giusto 80 giorni di tempo.